Ecco un nuovo video su Artista Dentro, benvenuto e bentornato su questo canale ricordati e te lo dico subito subito che puoi trovarmi come Letizia Dispare su tutti i social che ti vengono in mente non proprio tutti tutti, tipo Pinterest, non l'ho mai curato ma perché non ci sono mai addentrata ma su TikTok, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn e qui appunto su YouTube mi trovi puoi contattarmi, chiedermi, farmi domande, puoi avere informazioni, possiamo avere uno scambio iscriviti al canale per non perdere le uscite oltre a quella settimanale anche e soprattutto quella bonus infatti ti consiglio anche di attivare la campanella e di andare a sbirciare le playlist attive fino ad ora e andare a vedere tutti i video che compongono queste ultime perché potresti trovare veramente un sacco di spunti interessanti in questo video concludiamo un po' per il momento il discorso casting abbiamo visto casting, abbiamo visto self tape e in questo nuovo video ti parlo del dopo provino ovvero come si sta e cosa si prova dopo che si è preso parte a un provino ma te ne parlo dopo la sigla in un video precedente legato a questo argomento il casting ti raccontavo un po' dei provini, di come funzionano, di come approcciarli del fatto che dopo un provino praticamente mai o molto raramente avrai un feedback soprattutto se questo feedback è negativo anche perché se è positivo ti chiamano e quindi poi vai a lavorare ma dal punto di vista emotivo cosa succede? come puoi affrontare il periodo dopo il casting? all'inizio sicuramente non sarà facile è molto soggettivo ci sono persone che sono portate a ok faccio il provino, faccio il self tape e poi non ci penso quasi più se va bene rispondo e vado e se va male me ne sono quasi dimenticato ci sono invece persone che si fanno proprio il cruccio e aspettano incollate al telefono una chiamata e sperano con tutto il cuore e hanno tutto il loro bagaglio mentale proiettato sulla chiamata della produzione dell'agenzia e della gente ma il più delle volte perché si può prendere parte a tanti tantissimi provini ma non sempre si ha la fortuna o la qualità ricercata per quell'esatto prodotto e per quell'esatta produzione raramente si riceveranno tutti sì perché sennò lavorerebbero davvero sempre solo le stesse persone su tutto il ventaglio di produzioni televisive, cinematografiche e pubblicitari quindi tante volte il telefono non suonerà tante volte ti sentirai dire di no ma questo e ci tengo a passare questo messaggio non deve assolutamente scoraggiarti non devi perdere il tuo smalto la tua brillantezza per chiamate non ricevute e per no che ti sono stati detti è normale siamo tanti prova a pensare che per un'unica produzione magari i casting director guardano e prendono in considerazione un centinaio di persone per 2-4 ruoli è veramente veramente una lotta all'ultimo sangue se la vogliamo vedere a modi 300 di sparta ma si può veramente non passare per una piccolezza per uno sguardo per il colore dei capelli per l'altezza per l'unione che si crea se sul set ci devono essere più attori e quindi cercare di creare un gruppo amalgamato e magari tu per un qualche dettaglio spicchi o spicchi un po' meno rispetto al gruppo le motivazioni sono tante come ti ho detto nell'altro video non devi star lì ad aspettare e sappi che non riceverai risposta sono veramente come dicevo prima pochissime le realtà che ti mandano una mail anche se non sei stato selezionato o il tuo agente ti chiama per dirti guarda per questa volta non è andata a buon fine anche perché un'agenzia è un agente per un determinato lavoro può proporre 20 attori del suo portfoglio magari 20 attori per produzione e può essere che nell'arco di una settimana l'agenzia abbia prodotto 60, 80, 100 attori ora ti sto dicendo dei numeri molto grandi ci sono agenzie che lavorano con pochi attori per fasce di età quindi non è detto che abbiano veramente 60, 80, 100 profili da proporre e 100 profili che sono stati proposti però se fossero anche 25, 30, 40 non si può pensare che un'agenzia possa chiamare uno per uno gli attori che non sono stati selezionati quindi in serenità mettilo in conto fai dei grandissimi respiri e vai avanti senza scoraggiarti ci saranno 10 no e un sì 5 no e 3 sì non importa e non è un conteggio basato sempre su 10 non importa non è questo che deve distoglierti dal lavoro è chiaro che più si lavora più si ricevono e più si è contenti e proiettati e si sente di essere sul cammino giusto ma le dinamiche sono tante e sono articolate quindi non farti castelli su qualcosa di cui non hai percezione tu puoi pensare che il provino sia andato benissimo e che il self tape sia stato fatto nel migliore dei modi probabilmente per te in quella situazione per quel contesto e per le indicazioni che ti sono state date per quello che hai messo in più di tuo pensi veramente di aver fatto un lavoro eccellente che non possano non scegliere te e poi questo non succede non perderti d'animo continua a dare il massimo continua a prendere tutto con la positività e con la voglia affinché senti che questa è la tua strada ma non lasciarti scoraggiare soltanto perché dal punto di vista emotivo hai un down perché non hai ricevuto la chiamata e perché non sei stato preso per n produzioni questo è il rovescio della medaglia di questo meraviglioso mondo e di questa moltitudine di situazioni che si possono venire a creare ma se l'attore o l'artista vuoi fare a questo ti devi abituare quindi a parte i giochini di parole e le battute questo video è proprio per darti e per lanciarti questo messaggio te lo dico io perché sono passata in queste fasi all'inizio facevo un provino e stavo attaccata al cellulare controllavo la mail un sacco di volte perché volevo con tutto il cuore passare la selezione soprattutto all'inizio quando hai voglia di lavorare di crearti il curriculum di crearti un'identità una professionalità una coerenza poi piano piano capisci che se continui a vivere con l'ossessione dei feedback con l'ossessione dell'essere presi vivi veramente male lo step e anzi gli step che ti sono più utili sono veramente mi arriva la richiesta di provino di self tape lavoro per costruire quella scena quelle scene al meglio le giro al meglio della mia possibilità e delle mie possibilità e poi lascio che le cose vadano come devono andare non è detto che ricevere un no per una produzione e per un lavoro sia veramente una cosa negativa magari quel no ti porterà da qualcos'altro e da qualche altra parte non attirarti situazioni negative con pensieri negativi che non ti servono dai il meglio e lascia che le situazioni facciano il loro corso chiaramente diciamo che è un po' più semplice quando hai un'agenzia o un agente che ti cura dal punto di vista professionale perché hai un appoggio e questo non vuol dire che fai un provino e assili il tuo agente o la tua agenzia per sapere come è andato il provino loro sono i primi che vorrebbero che tu lavorassi il più possibile e sono anche coloro che lavorano costantemente per promuovere i loro artisti tutti loro quindi non è necessario se le cose vanno a buon fine se c'è un ritardo se sei stato opzionato e quindi hai fatto un ulteriore passo avanti nella fase di selezione te lo diranno quindi è veramente inutile chiamare e chiedere in continuazione feedback sul provino sul self tape mentre per quanto riguarda le autocandidature in risposta a provini che leggi online quindi al di fuori da un contesto protetto da agenzia o da agenti lì è ancora più difficile avere un feedback lì mandi il materiale se ti viene richiesto un self tape di presentarti al provino prendi e vai però sono cose magari un po' più grandi di grandi dimensioni e ancora più raramente viene dato un feedback quindi dai il meglio di te un bel respiro e vai avanti col sorriso positivo senza farti frenare da quello che dice la tua mente allora ho finito di parlare di queste cose ma penso sia veramente fondamentale darti un aiuto e una visione di tutto questo perché è molto facile fare video comunicare e dare nozioni e dare esercizi e dare un feedback su quello che è il mondo e raccontare senza però parlare di questi risvolti molto delicati ed importantissimi perché a volte basta poco per andare veramente in depressione o vivere con uno stato un po' di disagio Artista Dentro nasce con questo obiettivo con il mio obiettivo di dire quello che gli altri non dicono dicono veramente poco proprio per darti un supporto e un appoggio ci sono passata io non sono figlia d'arte tutto quello che ho fatto e che ho costruito negli anni l'ho fatto con le mie forze e voglio e ho voglia di dare messaggi e di poter e ho voglia di aiutarti ho voglia di trasmettere qualcosa che può essere di aiuto sempre come dico e come ho detto poco fa attraverso la mia esperienza crescerò ancora e mi piacerebbe documentare le cose che imparerò i lavori che arricchiranno il mio essere persona il mio essere artista e trasmetterli agli altri perché dare agli altri è un arricchimento tenere tutto per sé vincola e chiude siamo tutti unici quindi perché non farlo se il video ti è piaciuto lascia un like scrivimi un commento contattami se hai domande come ho detto all'inizio del video mi puoi trovare su tutte le piattaforme mi puoi trovare sui social e iscriviti al canale attiva la camparella e come dico sempre live with passion always alla prossima ciao 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 ciao